sempre più difficile per i piecentini raggiungere il mare se da qualche tempo raggiungere le classiche emette dei piecentini in Liguria, Chiavari, Lavagna, Rapallo ed Abbollino Rosso causa le interminabili code autostradali nei pressi di Genova ora è diventato impossibile anche raggiungere la Versiglia e le Cinque Terre a meno di essere armati di santa pazienza per sopportare code chilometriche soprattutto al rientro dal weekend i lavori autostradali che negli anni passati venivano sospesi nei mesi di luglio e agosto quest'anno proseguono senza tregua per la gioia dei vacanzieri del weekend che ogni settimana per percorrere i 100 km dell'autostrada della Cisa impiegano dalle 2 alle 3 ore la ciliegina sulla torta è rappresentata dal raccordo tra la A15 e l'autostrada del sole che ogni settimana nel weekend provoca dai 2 ai 4 km di coda pensate che i lavori per il raccordo sono iniziati più di 3 anni or sono e la conclusione è un puro e semplice miraggio Grazie a tutti